Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, ben ritrovati nel nostro appuntamento quotidiano di chiacchiere, appunto pomeridiane, rigorosamente in nostra compagnia anche oggi. Una puntata esagerata, imperdibile perché gli aggiornamenti sono veramente velocissimi, sono tantissimi, è un periodo caldo non solo di paparazzate, se così le possiamo chiamare, ma anche di tutti i nodi che vengono al pettine, di rapporti, di amori che proprio non riescono ad andare avanti, di novità, di amori che invece vorrebbero tornare anche al passato quando erano felici, anche se non troppo. Però non vi svelo più niente e come sempre vi presento al mio fianco Elvira Migliano. Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti. Effettivamente oggi è una puntata sfavillante perché mettiamo i puntini sulle i su parecchie situazioni. È vero, è proprio vero cara Elvira, anche perché ovviamente con il mondo del gossip non si scherza e soprattutto quando qualcuno di molto autorevole fa uno scoop è perché in realtà si è già cautelato in precedenza, quindi non rischiano querele così per nulla. Assolutamente, si parla di strategie qui. Esatto, molti però purtroppo non l'hanno ancora capito, speriamo che questi giorni sia un concetto un po' più chiaro. Iniziamo subito con il nostro primo argomento, anche qui parliamo di un amore che sembrava folle, sembrava fantastico, nato anche un po' all'improvviso con questa coppia molto particolare, eppure sembra che sia finito. E quello tra Massimiliano Allegri, allenatore di calcio, e Ambra Angiolini, che così all'improvviso qualche anno fa decisero di innamorarsi, una coppia anche abbastanza differente l'uno dall'altro, ovviamente entrambi molto molto impegnati, infatti non so dove abbiano trovato il tempo anche solo di conoscersi, non solo di frequentarsi, poiché allora Massimiliano Allegri già allenava, ora è fermo da un po', ovviamente la carriera ad attrice di Ambra Angiolini la conosciamo tutti, sempre molto molto importante non solo in Italia ma anche all'estero, e proprio per questo forse qualcosa è iniziato a scricchiolare. Sì, diciamo che dall'epoca di Francesco Ringa e Ambra Angiolini ne sono passate di ogni, e dalla sera alla mattina ci siamo trovati con un matrimonio finito e una nuova relazione che a quanto pare insomma non ha avuto poi dei risvolti positivi perché è andata a finire un po' maluccio. Fatto sta che insomma Ambra Angiolini si è avvicinata a questo allenatore in modo abbastanza ambiguo e sospetto perché a quanto pare insomma ad alcune dichiarazioni che aveva rilasciato era già interessata da tempo a quest'uomo però non si avvicinava perché aveva delle situazioni ancora a brighi e sciolte da dover sistemare. Fatto sta che insomma questo rapporto è andato avanti anche per un bel po' di tempo quindi sembravano affiatati, abbiamo visti sempre sbaciucchiarsi in diverse situazioni e Allegri non te lo immagini in una situazione del genere. Esattamente anche perché ovviamente se Francesco Ringa è d'impatto assolutamente Allegri non si può dire che sia la stessa cosa, travolgente, simpatico, ha questa simpatia molto particolare però effettivamente non si erano tirati indietro, paparazzati costantemente anche se effettivamente negli ultimi giorni sono emerse un po' di voci che ci sarebbe comunque un raffreddamento da parte della coppia che poi in realtà non è mai andata realmente a convivere. Si parlava tanto di questa nuova casa che avevano scelto invece hanno un po' temporeggiato ma soprattutto sembra che complice sia anche un cambio di vita dello stesso Allegri che potrebbe andare ad allenare all'estero e quindi Ambra anche per motivi lavorativi non sarebbe poi disposto a seguirlo. Se queste decisioni razionali talvolta insomma mi stupiscono un po' è vero che si parla comunque di rapporti tra adulti quindi insomma il livello di maturità dovrebbe essere pari e quindi si dovrebbe decidere insieme un pochino come gestire la situazione. Fatto sta che insomma decidere di chiudere un rapporto per motivi logistici può essere valido ma non sempre insomma bisogna trovare anche un equilibrio e quindi questa cosa mi ha fatto un pochino pensare che forse essendo lontani dagli schermi per un po' di tempo abbiano cercato un pochino di reanimare il rapporto o di contro avrebbero potuto insomma anche tentare questa strada per vedere se effettivamente c'è ancora del sentimento. Chissà. Chissà solo il tempo ci darà le prime risposte. Fatto sta non so a te ma a me la coppia con Francesco Ringa piaceva tanto. Sì diciamo che hanno fatto un pochino sognare perché si trattava del classico stereotipo di questa coppia nata un pochino per caso e a quanto pare insomma l'amore era bello forte perché ci sono state delle dediche attraverso melodie che insomma ci accompagnano tutt'oggi però a quanto pare insomma Ambra Angiolini dava la colpa a Ringa di questo rapporto finito. Ringa non si è mai diciamo esposto più di tanto. Magari questioni di tradimenti cose che non conosciamo. Amo. Probabilmente però insomma dare la colpa solo ad una parte solo ad una parte insomma è un cliché che conosciamo bene lo sappiamo che quando una storia finisce perché finisce da entrambe le parti altrimenti insomma non è che c'è qualcosa da dire. Un po' di colpe ci sono ovviamente da entrambi i lati non solo chi magari non sappiamo ovviamente ma commette un errore ma anche magari dall'altro lato dove ci sono delle mancanze delle distrazioni il dare per scontato dopo rapporti di tanti anni. Anche perché poi se non ricordo male ci sono anche dei figli di mezzo quindi non so quanti perché ormai ho perso il conto di tutti i figli che stanno nascendo nell'epoca pandemica però diciamo a prescindere sembrava una coppia che potesse andare avanti per tanto tempo. Quando ho letto insomma di questo allontanamento un po' mi sono dispiaciuta perché sai uno spera che comunque questi rapporti possano durare visto che sono nati quando noi eravamo adolescenti quindi sai ci fanno sognare. Sì canzoni romantiche come hai detto tu tutte queste canzoni dedicate. E invece niente si distrugge tutto. Esatto si distrugge tutto è difficile veramente che queste storie d'amore riescano ad andare avanti sul fatto che hai detto parecchie persone incinte è vero perché poi evidentemente complice la pandemia ogni volta che si va a analizzare qualche situazione di gossip ogni giorno ci sono nuove starlet della televisione in dolce attesa quindi sarà proprio il periodo evidentemente. Sì è il periodo di riflessione. Diciamo mettiamo su famiglia allarghiamo la famiglia nel caso di molti e via. Sì e diciamo che nel caso di Allegri e dell'Ambra credo che non ci sia stato poi questo passo e forse è stato anche meglio perché sai quando si creano queste famiglie allargate molto spesso le dinamiche familiari sono anche un pochino più complicati soprattutto dopo poi un matrimonio importante come hanno avuto insomma ci sta tutto voler rispettare un po' i tempi. Ma devo dire che però almeno grazie ad Ambra abbiamo visto Allegri sorridere perché insomma è sempre molto serio e quindi un po' di romanticismo ha aiutato anche lo stesso Allegri. Sì romantico proprio non ce lo si aspettava assolutamente ma anche Ambra poi che ha un carattere poi molto forte e quindi abbiamo conosciuto anche questi aspetti questo amore passionale che non ci aspettavamo da un amore passionale a un altro che pian piano sta crollando sempre di più come un castello di sabbia ma proprio di quella sabbia che non viene neanche amalgamata con quella della riva che è un po' più solida però puff il primo malito di vento se lo porta via infatti abbiamo parlato già nella puntata di ieri dell'ennesima puntata della teleno vero del triangolo del quadrangolo non so veramente quanti lati abbia questa forma però questo intreccio ecco chiamiamolo così che riguarda Diletta Leotta e Gian Yaman. eravamo ferme al post di Diletta che si lamentava di questo accanimento dei paparazzi dei social dei giornalisti che non riuscivano a capire queste sue amicizie con questi personaggi anche del mondo del calcio del mondo dello spettacolo la povera nonna che ha iniziato a credere a tutti questi questi inciuci a questo gossip ha iniziato a farsi domande anche sulla nipote e già da lì devo dire la verità ho raccolto un po' di opinioni anche di colleghi ma semplicemente anche di persone avulse anche a tutte queste dinamiche e la maggior parte sono stati tutti concordi nel dire che ha assolutamente esagerato non è la regina Elisabetta persino questi droni fuori casa per volersi giustificare di questa cosa assolutamente fuori luogo solo per essere nuovamente al centro dell'attenzione forse l'unica cosa che poteva essere condivisibile è la libertà di espressione ossia di non fermarsi nel giudizio di una persona soltanto partendo dall'abbigliamento piuttosto che da un vestito piuttosto da un modo di fare abbastanza eccentrico possiamo dire così tutto il resto invece no no diciamo che sull'aspetto fisico credo che sia necessario che faccia anche un chiarimento sulle dichiarazioni che ho fatto ieri nulla da dire contro la chirurgia plastica ognuno può fare quello che vuole basta non spacciarsi poi per una bellezza naturale questo credo che la coerenza credo che debba essere il motivo per il quale si vive perché soprattutto poi quando scusa mi sentite rompe il cambiamento è così palese ma così palese che veramente non c'è nulla che tenga non c'è niente di male insomma nel cambiare qualcosa che non ci piace però da qui al voler cancellare quello che siamo veramente ce ne passa poi diciamo che queste idee vanno di pari passo col suo comportamento quindi al di là insomma di quello che può essere l'aspetto fisico il modo in cui finora le si è comportata le relazioni che ha avuto e anche questi tradimenti in un finto rapporto che potrebbe esserci e non esserci insomma fanno pensare e ricordiamo che comunque queste le conseguenze maggiori le hanno i familiari perché si sono anche battuti per lei si sono si sono lasciati andare ad una serie di dichiarazioni anche il fratello il fratellastro ha detto che questo amore c'era che era vivo tra can tra gianni dilette in realtà non è così e no qualcosa effettivamente non torna no ma infatti anche perché giustamente chiamato in causa dopo la notizia di dago spia che aveva appunto parlato di questa liaison del figlio del presidente della roma e la stessa diletta leotta beccati in un hotel e dopo le dichiarazioni quindi a smentita della stessa leotta sono uscite le foto ma guarda sono uscite le foto che però risalgono allo scorso 20 dicembre che in realtà non è un dato così lontano che potrebbe scaggionare la stessa leotta poiché lo scoop del famoso albergo con gianne di poco dopo quindi era una cosa che era già precedente ovviamente perché non è che si conosce una persona in un albergo ma si va in sua compagnia e quindi viene da pensare anche perché come hanno detto i due settimanali due quotidiani online e non è una cosa una storia quella col vicepresidente della roma che andrebbe avanti da tanto tanto tempo e quindi viene un po da pensare prima di tutto che le dichiarazioni della leotta siano assolutamente come dici tu spesso mendaci e mi piace molto quindi me lo prendo in prestito e poi questa storia con gianne è montata e falsa alla testa che gli pesa cioè quali sono le opzioni giuste e diciamo che secondo me nemmeno lei sa quello che sta vivendo credo che sia in uno stato confusionale totale perché vuole uscirne pulita ma non ci riesce perché ragazzi soltanto quello che non si fa non si sa ne ho pensato la stessa cosa che secondo me è andato storto qualcosa del suo piano non si aspettava di essere sgamata e quindi è crollato il famoso castello di sabbia sì lei stessa si è definita un personaggio pubblico ma i personaggi pubblici diventano pubblici grazie ai paparazzi quindi è inutile insomma paventare questa celebrità senza poi dover fare i conti anche con i lati negativi perché effettivamente insomma non c'è nulla di male nell'avere delle relazioni però insomma se si ha già un'altra relazione poi si viene beccati in intimità con un altro il tuo bel nome insomma svanisce perché diciamo che ci sono tanti pregiudizi su diletta leotta come ce ne sono su belen come ce ne sono su elisabetta e gregoraci ce ne sono tantissimi però insomma ognuno di loro cerca di dare poi l'altro di dimostrare l'altro lato della medaglia nel suo caso è come se si stesse arrampicando sugli specchi cadendo rovinosamente poi il fatto strano è che la sparizione di jean è coincisa proprio con tutto questo caos questo fa molto strano quindi mi viene anche da pensare erano d'accordo erano d'accordo e realmente si è innamorato e la situazione è sfuggita di mano cioè io devo dire la verità credo che magari da parte di jean ci fosse effettivamente qualcosa l'ho già detto credo che nel caso di diletta fosse solo un qualcosa di fisico e come darle torto come darle torto poi e credo che nel momento in cui jean si sia effettivamente reso conto che la storia non poteva andare avanti e che lui forse aveva corso anche un pochino troppo ha deciso di fare una decina di passi indietro e vedere quello che succedeva magari mettere alla prova questo sentimento e vedere lei che cosa avrebbe effettivamente fatto il fatto che lei non abbia fatto nulla forse è stata l'ennesima conferma che questo rapporto era semplicemente quello di una notte in albergo il problema è che sono state coinvolte la mamma il padre di jean la mamma di dilette andiamo a comprare l'anello e andiamo sui cavalli e vediamo i tramonti l'anello effettivamente era tolto è quindi qualcosa vorrà dire però quando riceve il tapiro dice no no noi stiamo insieme quindi c'è qualcosa che non va e nelle sue dichiarazioni e anche in quello che vive quotidianamente perché effettivamente potrebbe non legarsi a nessuno vivere le esperienze che può nessuno le punterebbe il dito contro e andrebbe bene così anche perché io poi non ricordo precisamente quando si è lasciata poi con l'ex fidanzato perché ci sarebbe da indagare anche su questo credo prima dell'estate ma sì non voglio sbagliare però se l'estate da dicembre la cosa era particolarmente retroattiva e durava da molto mi viene poi da mettere in discussione un po tutto a prescindere da cioè il social i social è un mondo comunque a parte anche abbastanza divertente a volte per niente perché ieri leggendo un po anche sotto al post di questo noto settimanale scandalistico molti si sono proprio portati dalla parte della stessa leotta dicendo no la persona nella foto è semplicemente bionda ma non è lei però lo chiariamo sicuramente i giornali scandalistici anche importanti non vanno a prendere casualmente un'unica persona bionda dicono no è diletta leotta sicuramente l'avranno vista l'avranno seguita avranno fatto delle indagini avranno visto anche il volto quando poi invece molte altre persone dicevano no ma sono foto vecchie non facendo poi un po tutti i calcoli altre invece ovviamente davanti alla realtà dei fatti hanno un po detto quello che abbiamo analizzato anche noi il fatto se qual è che pur essendo foto vecchie sarebbero potute venire fuori prima quindi potrebbe essere anche una strategia dei paparazzi stessi hanno aspettato il momento giusto perché insomma che lì non faceva notizia però sapendo evidentemente di quest'altra relazione in essere hanno aspettato il momento in cui sono stati messi in dubbio quindi che in realtà non è vero che non erano più insieme ma lei ovviamente ha smentito il tutto l'hanno fregata così eh sì devo dire che sono stati molto furbi perché da questo punto di vista credo che lei abbia proprio difficoltà adesso a difendersi e devo dire che un po forse mi dispiace anche a livello umano perché insomma si ritrova con le spalle al muro senza sapere anche come gestire la situazione e questo sfogo che c'è stato poi sui social che ha coinvolto famiglie intere e poi haters e poi personaggi che magari volevano anche schierarsi dalla parte di diletta alla fine è stato tutto un buco nell'acqua perché adesso non se ne potrà uscire in maniera pulita è verissimo noi intanto andiamo un attimo in pubblicità ci ritroviamo tra pochissimo a gossip mania una lente di ingrandimento sull'italia e sulla campania un occhio attento su tutto ciò che avviene in città benvenuti sul nostro quotidiano online di informazione nazionale e regionale focus sulla cronaca politica attualità cultura spettacoli e sport h24 ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su facebook instagram e youtube tutta l'informazione nazionale regionale solo su notix.it ben ritrovati amici di gossip mania dopo questo piccolissimo break pubblicitario ritorniamo a parlare di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore perché continuando proprio analizzare il mondo dei social e non solo c'è un altro mezzo di comunicazione diciamo soprattutto con i vip che sta spopolando nell'ultimo periodo e clubhouse bene sì che non tutti hanno modo di frequentare e di conoscere noi comuni mortali con il metodo android purtroppo nuovo quindi soltanto coloro che hanno un iphone e quindi hanno questi dispositivi apple possono accedere a questo nuovo metodo di comunicazione a queste stanze nelle quali tipo radio insomma si comunica anche con dei personaggi molto famosi che fanno delle vere e proprie dirette per parlare dei fatti loro piuttosto anche gli argomenti di cronaca di cultura semplicemente per scambiare due chiacchiere ed è una cosa molto divertente soprattutto quando si parla di vip e ancor di più aggiungo quando si parla di vip particolarmente eccentrici sì soprattutto loro insomma soprattutto loro che sono un po' la coppia non coppia del momento ossia parliamo di morgan e asia argento che hanno dato vita a una diretta molto molto singolare infatti è stata una diretta non di cronaca non di attualità non di spettacolo ma parliamo male di tutti sì è una novità insomma nel panorama dello spettacolo vabbè non ce n'era non avevamo dubbi al riguardo il fatto è che su morgan nulla da dire è un personaggio che si è creato questa questa figura di conseguenza la porta avanti però di buco non hanno parlato male ancora di buco nella prossima però asia argento conferma quello che penso di lei cioè mi dispiace però una persona senza personalità che viene trascinata nelle situazioni fa quello che le dicono di fare e amen hanno parlato anche della loro relazione 15 anni dopo poi la loro separazione cercando di riprovarci veramente in tutti i modi hanno detto che è stata una relazione intensa fragile per alcuni versi anche molto sofferte e sofferente ma proprio per questo ci vogliono riprovare che evidentemente sono masochisti non lo so e asia argento ha fatto questo nuovo appello a marco quindi morgan proprio nel cercare di recuperare questo bellissimo rapporto ma perché fondamentalmente si divertono insieme hanno la stessa testa inciuciano anche loro nella stessa maniera quindi si sono ritrovati un po' ovviamente a parlare male di tutti e si sono trovati bene riscoprendo un po' quella sinergia che non hanno mai perso poi sì diciamo che oltre alla sinergia poi c'è la tossicità che ha caratterizzato questo rapporto però insomma l'abbiamo sempre detto essendo una coppia molto unita già nel passato questa rottura che c'è stata probabilmente era dovuta anche a dei cambiamenti interiori che ci sono stati quando poi si cresce si arriva ad un punto per cui si vuole un po' di stabilità vedendo che non l'hanno raggiunta singolarmente ci provano insieme e non oso immaginare quello che potrà succedere o quasi paura ad immaginare semplicemente una vita di coppia di Asia Argento e di Morgan soprattutto perché insomma con la diretta di Clubhouse hanno sparlato veramente di tutti senza poi la paura di essere anche accusati e di essere denunciati perché questa cosa può succedere hanno scomodato infatti parecchi personaggi importanti prima di parlare di questo però a me dispiace che effettivamente Asia Argento in questo momento di confusione anche di fragilità abbia completamente dimenticato anche soltanto l'affetto e l'amicizia per Fabrizio Corona che forse veramente aveva bisogno di un appoggio e di un supporto di una persona che gli volesse bene ma evidentemente non era lei no non era lei e credo che da parte sua ci sia stata anche la volontà di allontanarsi approfittando del periodo in psichiatria di Corona ed è stato un gesto abbastanza brutto ma credo che proprio per il suo carattere molto fragile lei non sia in grado di chiudere una storia e probabilmente insomma questa cosa è stata anche un bene perché non si può immaginare quali sarebbero stati in retroscena fatto sta che tutte le donne di Fabrizio Corona l'abbiamo sempre detto è come se fossero ammaliate da lui e ne parla ancora Belen ne parla ancora Nina Moric quindi insomma c'è un legame tra queste persone con Corona che devo dire forse anche un po' nostro perché la sua storia ci ha colpito e ci continua a colpire proprio perché vediamo la decadenza di questo personaggio giorno dopo giorno è vero è molto molto fragile quindi anche questo aiuta in un senso di empatia forse evidentemente un po' la sindrome della croce rossina da parte di parecchie donne ritornando sulla diretta di Asia Argento e Morgan hanno scomodato solo per parlarne di alcuni due personaggi molto noti del mondo dello spettacolo non solo hanno parlato in primis e l'ha fatto Morgan di Vittorio Sgarbi svelando un retroscena di quando è in casa insomma sulla sua intimità ma l'ha fatto come se stesse raccontando un po' la lista della spesa quindi anche in quel caso evidentemente querela dietro l'angolo sì anche perché insomma già Sgarbi non è un tipo tranquillo quindi nel momento in cui si diffonderà tutto quello che è stato detto a Clubhouse credo che... Le pite to Capra non glielo leva nessuno insomma ma credo anche che sia stato fatto in maniera sporca ecco non pulita perché sarebbe stato forse più carino creare una stanza e parlare male di queste persone direttamente con le persone credo che sarebbe stato molto più interessante anche perché insomma parlare male degli altri senza gli altri è molto semplice Eh sì secondo me non se la terrà effettivamente questo affronto invece Asia Argento ovviamente doveva ricaricare doveva rispondere con un pettegolezzo ancora peggiore e ha scomodato nel suo passato da attrice una sua esperienza cinematografica con Silvester Stallone quindi celebiamo ancora più di livello e ha raccontato due aneddoti uno secondo il quale si servisse di agopuntura anche in determinate parti intime e un altro durante il quale aveva avuto dei rapporti intimi con una donna proprio in un break delle riprese aveva però lasciato il microfono acceso in tasca e quindi si è sentito tutto ciò che stesse accadendo in quel momento Eh beh può capitare che cosa possiamo mai dire però insomma è anche un po' squalido che una donna parli di queste cose perché già lei ha denunciato molti produttori molti registi dicendo che ci avevano provato con lei che avevano provato insomma ad avere dei rapporti con lei e poi insomma puntare il dito contro Silvester Stallone che già ne sta passando tante perché viene criticato poi per il suo stato attuale che è molto ingressato rispetto a prima si tratta di situazioni credo che a livello cinematografico possono accadere e poi insomma che cosa dovrebbe dire Rocco Siffredi a questo punto che è il fulcro della sua vita è questo qualche aneddoto su di lui sicuramente c'è stato che poi ho visto una diretta che ha fatto qualche tempo fa è stata veramente divertentissima una cosa assurda che parlava tranquillamente con Guglielmo Scilla di tecniche di seduzione quindi là veramente altissimi livelli di divertimento senza mai cadere nello squallido vedi la differenza per questo te l'ho nominato diciamo che in questo caso stiamo parlando di un personaggio che ha fatto del sesso il suo cavallo di battaglia un lavoro è un lavoro però tutto quello che fa dalla pubblicità delle patatine a un film hard credo che insomma riesca a gestire molto bene questa sua popolarità sì la sua immagine e soprattutto anche l'idea che le persone hanno di lui perché noi ce lo immaginiamo uomini e donne insomma lo immaginano come un intoccabile beh quando è andato se non ero all'isola dei famosi ha riabilitato molto la sua immagine anche lì abbiamo visto il lato fragile il rapporto con la moglie quindi assolutamente vero Asia Argento e Morgan proprio no risultano ancora discutibili si tratta secondo me di persone che non sono ancora in grado di gestire la popolarità che hanno che hanno avuto anche un pochino per caso perché parliamo di Asia Argento figlia d'arte e di Morgan una persona che si è fatto strada principalmente al di là delle canzoni ma per le critiche per il suo modo di essere ed è un peccato perché lui è un bravissimo musicista quindi veramente dovrebbe andare avanti per la sua musica per la sua bravura la grandissima competenza musicale che ha l'abbiamo visto anche in vari talent nel passato invece queste polemiche lo travolgono continuamente sì e credo che sia proprio dovuto al fatto che si accompagnano a vicenda e nessuno dei due ha un carattere talmente forte da riuscire ad imporsi e a cercare una strada giusta anche perché ormai l'età avanza quindi si tratta comunque di personaggi che dovrebbero avere alle spalle un'esperienza di vita totalmente diversa piuttosto che perdere tempo a parlare di aneddoti divertenti secondo loro su altre persone sì che poi tanto divertenti neanche sono effettivamente cambiamo argomento andiamo rapidi verso il nostro ultimo argomento qualche giorno fa abbiamo parlato degli effetti dei social sulla visione di se stessi questi filtri che rendono anche le ragazzine più giovani sempre più insicure proprio in questi giorni è uscita sui social e non solo una campagna della DAV proprio a sostegno della bellezza autentica senza filtri proprio a sostegno anche delle fragilità delle ragazze che sono costantemente alla ricerca dell'approvazione sui social e qui mi collego a qualcosa che ha fatto la nostra cara Chiara Ferragni che ha mostrato il suo pancino post partum in una serie di storie che in realtà erano anche per promuovere il brand di abbigliamento che indossava abbigliamento sportivo che indossava in quel momento mostrando un filino di pancetta dicendo dobbiamo essere tutti orgogliosi del nostro corpo non ce ne dobbiamo vergognare a Chiara se è una mazza di scopa hai partorito da un mese perché Vittoria ha compiuto un mese qualche giorno fa ed hai veramente un grammo di pancettina cioè a chi la vuoi dare a bere insomma? diciamo che lei è stata molto aiutata da madre natura diciamolo poi la seconda gravidanza insomma gli effetti sulle comuni mortali sono disastrosi perché insomma al di là della pancetta però anche le smagliature il seno calante c'è gente che mette 30 chili 30 chili lei con un po' di pancettina ma veramente cioè presa in due dita così no? dobbiamo essere fiere del nostro corpo non ci dobbiamo vergognare diciamo che fa un po' ridere questa campagna portata avanti da lei però il senso è insomma nobile diciamolo più di questo insomma bisognava scegliere qualcuno con un pochino di pancette in più e devo dire che questa cosa ricalca anche un pochino le pubblicità che ora stiamo vedendo nell'ultimo periodo che insomma danno anche un'immagine femminile diversa a quello che siamo abituate ma non tutte perché insomma anche da questo punto di vista la donna viene sempre trattata in un modo negativo nelle pubblicità e devo dire che forse questa campagna magari se verrà portata avanti poi al di là del brand che si vuole pubblicizzare poi anche a livello social con anche la sorella della Ferragni perché no? potrebbe essere insomma un buon punto di partenza e coinvolgere tutte quelle influencer che in questo periodo insomma magari puntano più a filtri a interventi piuttosto che mostrarsi con qualche rughetta in più o anche con un'attaccatura di capelli un po' più diversa dal solito ecco eh sì infatti la sorella Valentina sta portando avanti anche lei questa sua campagna della bellezza naturale dell'accettare il proprio corpo nelle sue imperfezioni anche perché lì c'è anche un problema di salute nonostante comunque sia informissima bellissima però anche negli scorsi giorni ha pubblicato delle foto in costume normalissime quindi dove non si rincorre questa bellezza perfetta plastificata con questo seno prosperoso con delle forme da urlo ma semplicemente una foto in costume tradizionale che può avere i suoi difetti i suoi pregi senza ritocchi senza modifiche e anche questo è molto importante al di là ovviamente di tutti i messaggi e di una Chiara Ferrani che sicuramente è fortunata perché di costituzione già tonica e magra sì devo dire che sui social poi soprattutto nel lato esplora se si capita in quelle categorie sportive ci sono molte donne che dimostrano quello che avviene quando magari cercano di mettersi in mostra con degli addominali e quello che accade poi effettivamente la sera anche dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua quindi il corpo di per sé non è perfetto bisogna entrare un pochino in quest'ottica e credo che tutto dipenda da quello che viene mostrato poi anche in televisione e poi dall'avanzare dell'età perché insomma quando si diventa un pochino più grandi si apprezzano i propri difetti e si fa di questi un punto di partenza un punto di forza fatto sta che insomma Chiara con la pancia se quella è pancia noi non sappiamo cosa dire al riguardo perché magari insomma il nostro corpo è purtroppo oggetto anche di una serie di problemi relativi appunto a ormoni a tiroide quindi insomma cercate di apprezzarvi per quello che siete e amen ma sì assolutamente come ha detto benissimo Elvira ogni difetto ogni peculiarità deve essere assolutamente un punto di forza e di unicità noi intanto siamo in chiusura grazie mille Elvira Vigliano grazie Alessia grazie a voi che ci avete seguito anche oggi ed appuntamento ancora a domani con Gossip Mania buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti